Musica Spaghetti con polpo alla Luciana Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione Oggi ci dedichiamo ai polpi alla Luciana Direte ma la ricetta già c'è sul tuo canale Sì, però è una ricetta molto vecchia Non si sente bene, non si vede bene Vi ha inventato un po' tutti È buona, è bella Però è un po' vecchiotta Quindi è il momento di rinnovarla La farò così come è quella precedente Però con questo succo di polpo alla Luciana Condirò degli spaghetti Possiamo anche presentarla come quella precedente Con dei grossini di pane Con un po' taglio sopra e va benissimo Il polpo alla Luciana nasce nel borgo di Santa Lucia Che è un borgo esistente ancora Era un borgo marinano anticamente Ne è rimasto ben poco insomma Di quello che era il vero cuore della Santa Lucia di una volta Però c'è rimasta questa ricetta Che io vi propongo come una delle ricette più belle Della tradizione napoletana Allora incominciamo con gli ingredienti E poi incominciamo a cucinare Gli ingredienti per i nostri polpi alla Luciana sono 3 polpi di media grandezza Lavati, puliti e deviscerati bene Vi dirò esattamente il peso Nella striccia sottostante con tutti gli ingredienti Poi abbiamo Un cucchiaino di prezzemolo tritato fine Due spicchi d'aglio Una quindicina di olive nere di gaeta Una scatola di pelati da 380 grammi Quella che comunemente viene detta da mezzo chilo Da cui ho levato diciamo un cucchiaio di pelati Vedete io già li ho spezzettati In modo che poi è più facile lavorarli Origano secco Peperoncino fresco, secco, in polvere come più vi piace Tre filetti di acciughe sott'olio O sotto sale vanno bene lo stesso Olio extravergine Sale, state attenti se serve o non serve Assaggiate sempre E una tazzina di acqua Per allungare e far cuocere il nostro polpo Ho messo in una pentola O di alluminio o di coccio Se ce l'avete andrebbe benissimo Una mezza tazzina di olio extravergine Con i due spicchi d'aglio puliti E adesso li faccio dorare Ora che il nostro aglio è dorato Io ho fatto un po' raffreddare l'olio Ci aggiungo le acciughe Me le stempero E rimetto il tutto sul fuoco Stemperiamole bene E poi ci uniremo i nostri polpi Temperata la nostra acciuga Io l'ho levata sempre dal fuoco In modo che i nostri itti Non sia insomma pericoloso Mettiamo i nostri polpi Rimettiamo sul fuoco Che adesso si devono diciamo Un po' arricciare E prendere un po' il gusto della nostra acciuga Ora che sono diventati rossi Che insomma Diciamo abbiamo dato una prima cottura Io ho levato anche l'aglio Vedete i due spicchi Aggiungiamo i nostri pomodori Ora uniamo le nostre olive De nocciolate Il nostro origano Agustoso e ci piace di più Ci piace di meno Comunque ci vuole Il polpo alla lucià Ci vuole l'origano Il nostro peperoncino E ci mettiamo La nostra Tazzina di acqua Adesso copriamo E lasciamo andare Vi dirò esattamente Quanto tempo è passato Per la cottura Il prezzemolo Ce lo mettiamo Praticamente alla fine Quando il nostro sugo È bello fatto Io con questo sugo Condirò Gli spaghetti Sono passati 40 minuti E il mio polpo è cotto Adesso io prendo il prezzemolo E ce lo metto dentro Li giro un poco E li spengo Poi al momento Di condire gli spaghetti O di Presentarli con le nostre Bruschette Li riscaldiamo Se il sugo Si è troppo seccato Ci aggiungiamo Un po' d'acqua Vedete come deve essere Il sugo Abbastanza Diciamo Ristretto Ma deve avere Un poco Un poco di sughetto In più Perché è l'acqua Che hanno cacciato Poi Tra l'acqua Che abbiamo messo Noi che si è asciugata E l'acqua del polpo Abbiamo questo Sughetto Ricco di gusto Ho aspettato Che l'acqua Bollisse E ho buttato I miei spaghetti Li facciamo belli al dente Perché poi li ripassiamo Nel nostro sugo Ho messo Gli spaghetti Nel sugo Dei nostri Pulpi Adesso Li faccio Intaporire E Li servirò Con Un polpo Sopra Per ogni commentale Ecco i nostri spaghetti Con polpo La luciana Pronti Per essere serviti Buon appetito A tutti Grazie a tutti Grazie a tutti